Associati olivicoltori ben ritrovati al numero 17 del periodico dell'olivo 28 aprile 2023. Le recenti piogge hanno ben idratato i terreni e le piante, sono caduti dai 20 ai 25 mm di pioggia, ciò porterà sicuramente un beneficio e un avanzamento veloce delle fasi vegetative. Infatti eravamo un po' in ritardo sulla attività di sviluppo degli apici vegetativi, ma vedrete che nel giro di 7-8 giorni avremo i bocioli fiorali, almeno per il nord Italia. Naturalmente il centro ed il sud sono in fase fenologica più avanzata. I parassiti. Iniziamo dalla mosca dell'olivo. In questa settimana, considerate le condizioni meteorologiche, ci sono avuti pochi voli all'interno degli oliveti. La cicidomia, anche questa, è un po' in ritardo rispetto all'andamento degli anni precedenti. Non abbiamo ancora avuto sfarfallamenti. Da considerare che troviamo molte pupe parassitizzate. Ciò vuol dire che si sta creando all'interno degli oliveti un ambiente sfavorevole con parassiti di contrasto. Cocciniglia dell'olivo. Abbiamo trovato le prime neanidi. Naturalmente non è ancora il momento più opportuno per attuare azioni di contrasto. Tignola dell'olivo. Poche presenze, limitate, ma già l'abbiamo detto, l'andamento climatico di questa settimana è stato sfavorevole per tutti gli insetti. Parassiti fungini. Occhio di pavone. In questi casi, l'andamento climatico, umido e le lunghe bagnature foliari hanno favorito lo sviluppo di questo parassita, ma anche di altri parassiti fungini. Perciò, se non si sono attuati interventi fitosanitari con prodotti rameici, è bene ora intervenire. Se trovate delle infezioni di occhio di pavone già presenti, ricordatevi che il rame ha funzione preventiva. Perciò, se vogliamo attuare un'azione curativa, dobbiamo intervenire con prodotti a base di dodina. Il periodo è favorevole per l'apporto del boro. Un fertilizzante che è necessario andare a distribuirlo proprio 15-20 giorni prima della fioritura. Con l'aiuto della lavagna andiamo a vedere cos'è questo boro e i suoi effetti. Il boro è uno fra gli elementi più importanti per il metabolismo delle piante e a maggior ragione anche per la pianta dell'olivo. Entra nella sintesi degli zuccheri, entra nel trasporto degli zuccheri dalle foglie a tutte le parti delle piante che ne hanno necessità, soprattutto per andare a crearmi anche le riserve di amidi all'interno delle piante, influisce sulla moltiplicazione cellulare e sulla funzionalità delle pareti delle cellule. Proprio per questo è necessario in questa fase in cui la pianta dell'olivo sta entrando nella fase di produzione di fiori e di impullinazione. Attuando un'attività di corretta moltiplicazione cellulare, il boro influisce su una corretta presenza e numerosità di fiori, sulla formazione del polline e anche nel momento in cui il polline entra in contatto con lo stigma dei fiori. Per cui in quel momento lì il polline deve andare a demettere il budello pollinico che scende lungo il pistillo, va ad incontrare i miei ovuli e attua la fecondazione da cui si avranno origine le olive. Il boro in questo momento qui è particolarmente necessario perché il budello pollinico deve svilupparsi in lunghezza e lo fa proprio non con un allungamento delle cellule, ma andando a creare nuove cellule e soprattutto dalla parte della punta, dalla parte apicale del budello pollinico. È qui che influisce la presenza del boro. In assenza si avrebbe una ridotta o diminuita allungamento del budello pollinico e con molta probabilità anche una mancata fecondazione. Da considerare che il boro in questa produzione cellulare aumenta la capacità di sviluppo degli ovuli e soprattutto del tegumento dell'ovario, perciò una attività che è fondamentale per avere buone produzioni di olive. Però come dobbiamo comportarci in questa fase? Come possiamo aiutare la pianta dell'olivo? Anche se abbiamo terreni ricchi di boro, questo si rende disponibile quando nella soluzione circolante del terreno, dove le radici assorbono gli elementi nutritivi, abbiamo un pH che è compreso fra il 5 e il 7, perciò subacido, dopo si rende disponibile ancora, ma in questo caso qui troviamo la possibilità da parte delle radici di acquisirlo quando il pH è compreso fra l'8,8 e il 10, pertanto altamente alcalino. In questa maniera si escludono gran parte delle superfici a oliveto, perciò è necessario apportare il boro, soprattutto in questo periodo dove, fra un 15 giorni, avremo le fioriture. Come apportarlo? Possiamo darlo con delle ferti irrigazioni, oppure più semplicemente con delle concimazioni foliari. In commercio il boro lo troviamo legato a dei polisaccaridi, che non sono altro che degli zuccheri semplici legati fra di loro, e poi anche con un'altra sostanza, l'etanolammina. Questi favoriscono l'assorbimento da parte delle piante del boro, si legano assieme e lo fanno penetrare con più facilità, in modo che velocemente riesca ad applicare la sua funzione. Devo ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci, alla settimana prossima.